benvenuto buongiorno a tutti presidente prima di sederci e di iniziare la nostra chiacchierata il festival di wild, questo festival di wild è dedicato alla bellezza l'idea è che la bellezza dell'Italia è il nostro bene più prezioso e che attraverso l'innovazione tecnologica questa bellezza noi possiamo portarla nel ventunesimo secolo c'è una persona che negli anni passati ma fino all'ultimo ha combattuto per la bellezza del nostro paese l'ha difesa, l'ha promossa e ci ha fatto sentire di essere orgogliosi un po' di più di essere italiani ieri ci ha lasciato il presidente merito Carlo Azzeglio Ciampi a cui dedichiamo un ricordo posso aggiungere direttore nel pensare a Ciampi a Firenze mi ha autorizzato il sindaco Nardella a farlo non soltanto il ricordo del presidente della Repubblica del presidente del Consiglio del ministro dell'economia del governatore della Banca d'Italia ma anche di una stagione particolare della vita di questa città perché Ciampi è stato presidente del Consiglio per un anno dall'aprile del 93 al maggio del 94 ha preso il testimone da Giuliano Amato e l'ha dato a Berlusconi al primo governo Berlusconi a Firenze in quel periodo Ciampi non fece mancare la sua affettuosa vicinanza nel momento forse più duro della storia fiorentina quando qui, a proposito di bellezza a 300 metri da qui la mafia mise una bomba sotto gli uffizi in via dei Giorgofili io vorrei che anche a nome della comunità fiorentina lo ricordassimo per quel momento di reazione forte che abbiamo avuto e che ci ha segnato oltre naturalmente al presidente prego, ci possiamo accomodare allora presidente il libro che citavo prima appunto è scritto da Ross che ho avuto il piacere di incontrare qualche tempo fa e a mia domanda ma i governi sono pronti ad affrontare l'innovazione? e lui mi ha risposto semplicemente no è vero che oggi come siamo insomma che il sistema pubblico in generale non parlo solamente dell'Italia parlo un po' in tutto il mondo fa fatica a stare dietro all'innovazione tecnologica forse più che in passato? sì, è vero è vero perché l'innovazione è molto più forte di prima cioè tu non fai in tempo a girarti che il futuro che c'era prima è già finito credo che il modello dell'innovazione per me continui a essere gli Stati Uniti con tutto rispetto naturalmente per ciò che avviene da Singapore a Alibaba a grandi esperienze sparse per il mondo perché poi vai a scoprire che il primo sistema di pagamento elettronico via cellulare l'hanno inventato in Africa e quindi ci sono esperienze di innovazioni varie ma io continuo a pensare che i più all'avanguardia di tutti siano gli americani bene Presidente Obama G7 quest'anno in Giappone apre la discussione lui e dice scusate nelle discussioni quelle informali ma voi fate bene a discutere del rapporto tra taxi e Uber stavamo discutendo di come i sindaci devono disciplinare tema complesso perché io ho la licenza sì però il mio servizio è in un certo modo io ho l'applicazione voglio essere messo in condizione di innovare e Obama dice non faremo in tempo a finire questa discussione che già le macchine senza autista le driverless car saranno già pronte e sviluppate sul nostro territorio allora a domanda esplicita i governi sono pronti ad affrontare le questioni dell'innovazione? io dico è difficile al momento si fa una grandissima fatica quello che è importante è far passare il messaggio che non è una questione da addetti ai lavori non è una questione solo per i tecnocrati per i tecnici noi ne parliamo c'è qui Paolo Barberi se tanti altri amici Antonio Campodallorto sta facendo un grande lavoro in Rai su questo noi abbiamo bisogno di cambiare la testa cioè questo sistema il telefonino diventerà sempre di più il mio ufficio comunale mobile la mia banca lo è già nei fatti il sistema di pagamento allora o tu fai un vorrete dare una parola semplice un sistema che sia il più semplice possibile e per essere semplice bisogna essere complicati perché ci vuole tanta fatica per essere semplici oppure non saremo mai innovativi ci stiamo provando alcuni esempi funzionano altri no io non so quanti di voi conoscono il sistema di dichiarazione telematica dei redditi in Italia siamo partiti due anni fa adesso 1,9 milioni 2 milioni di persone vanno in automatico senza passare né dal commercialista né da un CAF però sono 2 milioni fatturazione elettronica sta piano piano partendo ma come se ne esce? come aspettiamo il ricambio generazionale in maniera cinica oppure non lo so pensiamo a uno switch off cioè alcuni servizi solo sul digitale secondo me l'idea dello switch off è comunque un elemento cioè arriverà un giorno in cui dovrai dire da domani stop ovviamente cosa succede con le burocrazie fatta la legge è trovato l'inganno arrivano 15 giorni prima della fine e ti dicono eh però io non ce la faccio l'unico metodo che io conosco in questo campo è spostare sempre ogni giorno un po' più in là l'asticella degli obiettivi lo chiamerei il metodo Sergei Bubka che per noi vecchiotti oh io mi sono emozionato quando ho incontrato Bubka a Rio de Janeiro era quello che tutte le volte faceva il record di salto con l'asta e tutte le volte faceva un centimetro in più lo accusavano di farlo per tenere viva la 5,98 5,99 6,01 lo accusavano di farlo perché voleva tenere viva la la suspense io credo che fosse il desiderio di dare sempre un pezzettino alla volta per essere chiari chi vi viene a proporre adesso faccio il grande piano per la digitalizzazione del paese vi sta prendendo in giro l'unico modo che noi abbiamo è di spostare ogni giorno un po' più in là il traguardo delle aspettative fisco dichiarazione telematica pagamenti digitali il pin unico lo speed tutte sigle e acronimi che ci portano poco lontano ma la sintesi finale è che dobbiamo cambiare la mentalità partendo da cose concrete se facciamo lo spiegone il disegnone complessivo non facciamo in tempo a spiegarlo a tutti che è già cambiata la tecnologia e siamo già rimasti indietro però vecchiotti no quant'anni c'hai? 38 ormai inizia per la tua età anche te no la scommessa 41 io la scommessa direttore poi naturalmente parte dal coding alle scuole elementari certo perché bisogna anche ragionare di questo bisogna prendere atto che i nostri ragazzi più piccoli io con i miei figli il mio rapporto è che sono totalmente digitali molto più di me cioè in vacanza mia figlia mi ha preso l'iPad mi ha cambiato il codice mi ha messo l'impronta digitale che io evitavo accuratamente di avere e mi ha riempito l'iPad di applicazioni nel modo più naturale possibile perché l'applicazione a noi richiede applicazione l'applicazione è una banalità totale però questa è una grandissima sfida per la politica perché ti impone di tenere il passo e quindi occorre che in particolar modo tramite il servizio pubblico come stiamo facendo aiutiamo le persone che vengono che sono un po' più anziane di noi ad appassionarsi a questo e raccontare le potenzialità le possibilità sapendo anche che in questa meraviglia che è l'innovazione come sempre ci sono cose meravigliose e c'è anche tanta schifezza io l'idea qui l'emblema sono i social i social sono un meraviglioso modo di interagire di colloquiare di stare insieme agli altri e sono anche una gigantesca fogna in alcuni casi una gigantesca fogna di frasi sconsiderate la discussione non è a ragione Umberto Eco o a torto la discussione è come tu cittadino sei responsabile dell'utilizzo dei social e come tu politico aiuti perché non è colpa dei social è colpa tua se non sei in grado di farti controllare di farti verificare insomma io sono innamorato dell'innovazione la considero una cosa strepitosa però per arrivare al traguardo bisogna avere la consapevolezza che il traguardo non esiste e che tutte le volte c'è da spostare un gocciolino più in là metodo Sergei Bunka senta a proposito di internet e dei social dalla prima elezione di Obama quindi da quando Nate Silver che era il suo super consulente che analizzava tutti i dati prima delle elezioni ha contribuito in maniera significativa all'elezione di Obama appunto internet è entrata prepotentemente in politica in Italia c'è un esempio di un partito il Movimento 5 Stelle che adesso non voglio entrare nel merito di quello che sostiene o meno comunque senza internet non avrebbe raggiunto i risultati che oggi che oggi ha ottenuto e che e che continua a ottenere Presidente qual è il rapporto giusto che la visto che poi anche lei utilizza moltissimo utilizza moltissimo la rete qual è il rapporto giusto che la politica deve avere con la rete un rapporto di diciamo amplificazione del proprio messaggio di utilizzo per capire cosa vogliono i cittadini di analisi dei dati io penso che i dati siano oggettivamente ciò che di più importante ha una società per il futuro cioè una delle aziende strategiche dell'Italia è sicuramente l'Eni o l'Enel o le altre società grandi che tutti conosciamo ma segnatevi il nome Sogei la Sogei è la società che gestisce la parte diciamo ingegneristica del paese e sulla quale noi investiremo con Diego Piacentini sempre di più perché è la società che ha potenzialmente la più grande analisi delle banche dati e la più forte interazione è quella che ha fatto la fatturazione elettronica che ragiona sulla digitalizzazione la dichiarazione telematica dunque i dati sono fondamentali e la gestione dei dati e il rapporto tra dati e privacy è un tema straordinario è un tema straordinario vi faccio un esempio so che qui gioco in trasferta quando parlo di a Firenze in trasferta no gioco in casa però su una cosa che sto per dire gioco in trasferta privacy quando non facevo il presidente del consiglio ho litigato con molti miei amici dicendo che non si poteva mettere il becco e il naso e che bisognava difendere la privacy soprattutto tesi che credo sia di molti di voi spero che sia così da quando sono presidente del consiglio mi arrovello senza aver trovato il punto di equilibrio è frizione acceleratore per chi ha ancora il cambio non automatico a proposito di innovazione su dov'è il punto di caduta vi faccio un esempio 11 agosto 2016 Nardella e tutta la giunta di Firenze il vice sindaco la presidente del consiglio comunale sanno che l'11 agosto per noi è un giorno di festa a Firenze è il giorno della liberazione il giorno in cui fu sonata la campanella a Roma questo 11 agosto è stato un giorno di paura di preoccupazione nessuno si è accorto di niente perché alle 20 mezzanotte e 40 su facebook una persona che a noi non risultava radicalizzato ma che i nostri servizi sapevano essere in qualche modo in contatto con alcuni ambienti posta su facebook delle immagini di martiri o di presunti martiri del jihadismo cioè inizia a scrivere i nomi di quelli che si sono ammazzati fatti saltare in aria nome foto data di morte e poi mette per ultima la sua foto il suo nome con scritto 11 agosto 2016 quando noi in un servizio di monitoraggio intelligente che facciamo ci rendiamo conto di sta roba non sapendo a e nel frattempo il telefonino di questo risulta staccato per ore l'ultimo mezzanotte e 40 voi capite che può succedere tutto dalle prime ore del mattino fino a mezzanotte ci sono 18 17 16 ore e la nostra struttura ha avuto un gigantesco stress test è una cosa difficile da 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 gestire ma attraverso la qualità dell'azione delle nostre forze dell'ordine dei nostri servizi della nostra intelligence noi siamo riusciti a risalire anche controllando i vari le varie tracce modello pollicino che su facebook e sulle connessioni erano state lasciate e abbiamo trovato una persona che era collegata a questo le forze dell'ordine hanno fatto irruzione si sono fatte accompagnare e hanno detto non vi preoccupate so io dov'è hanno portato e questo era un mitomane alterato sotto effetto io vi domando finché siete quelli che fanno gli esperti i cyber i cyber tecnici è un film quando siete il presidente del consiglio dei ministri responsabile della sicurezza del paese quello è uno stress test io alle 19 42 quando mi hanno dato però questo succede anche nel mondo analogico cioè voglio dire procurata allarme e procurata allarme non c'è dubbio la mia domanda è dove sta il limite al controllo della singola persona e all'intrusione vale anche nel mondo non virtuale nel mondo analogico perché nel momento in cui io sento dire da una telefonata anonima che adesso faccio saltare in aria è chiaro che devo andare a prendere e devo controllare in tutti i modi la persona che se ne occupa ecco l'ho fatta lunga per dire che cosa che la gestione dell'aspetto sicuritario è molto complicata e richiede famosa la discussione tra cos'era FBI e Apple per la che qualcuno ha definito una gigantesca operazione di comunicazione straordinaria ma è un tema vero poi c'è l'altra parte della domanda che ha fatto il direttore quindi questa è la prima più istituzionale il governo poi c'è una più politica Obama è stato il numero uno prima di lui ricorderete probabilmente le primarie del 2004 negli Stati Uniti dove Howard Dean vi ricordate Howard Dean era il candidato dei democratici era quello più di sinistra un Bernie Sanders antelitteram come piattaforma ma utilizzò in modo strepitoso internet in particolar modo per la raccolta fondi molto più di quello che fece John Kerry dopo che comunque poi fece un ottimo lavoro ancorché perdendo mi sembra per l'Io o per l'Io non mi ricordo da quel momento è cambiato tutto nel racconto e nella costruzione del rapporto tra internet e politica 5 Stelle ha fatto una cosa straordinaria negarlo è un errore la rete è diventata un gigantesco collante tra storie diverse che hanno trovato grazie a 5 Stelle l'occasione di fare delle proposte io non ne parlo male nel modo più categorico anzi dico che su molte cose loro sono stati decisamente più bravi di noi e su molte cose il PD ora chiedo scusa se dico una cosa di un partito ma ho parlato di 5 Stelle posso fare del PD deve fare di più certo il punto vero come sempre poi è la concretezza se tu dici che c'è lo streaming sempre devi fare lo streaming sempre non lo puoi fare solo quando va bene allora devi farlo anche quando il sindaco di una grande città va in difficoltà oppure quando fai le riunioni per affrontare certe questioni a noi lo streaming secondo me noi lo facciamo sempre siamo in streaming però lo streaming del PD è meno interessante diciamo dello streaming di Wired io sono convinto che lo streaming cambi le modalità in cui si fa una riunione cioè se tu sei 20 persone e te le dici in un certo modo è diverso da non essere con 2000 persone o 200.000 collegate però è anche vero che il principio della trasparenza deve trovare delle regole di condotto uguali per tutte allora rispetto al modello di 5 Stelle secondo me loro hanno avuto una grande intuizione che poi a mio sommesso avviso si infrange contro una gestione non trasparente della loro comunità ma quello è un problema loro e che riguarda loro ognuno pensi a se stesso noi di problemi ne abbiamo tanti al nostro interno per cui se inizi a parlare di noi figurati dove arrivo il problema però è che sicuramente andrà avanti cosa ha fatto Obama nel 2008 i dati ha ammettato gli indecisi con e quindi seguendoli sui social praticamente nel 12 con Obama for America che poi è diventato organizing for America gli indecisi tu sai che scopri che ci sono gli indecisi da convincere e vai su quelli lì a botta sicura però loro hanno anche un meccanismo diverso loro hanno 10 swing states hanno 10 stati in cui se la giocano in California non ne frega niente a nessuno vanno in Ohio in Florida o in altri stati e lì Obama ha fatto cose straordinarie Trump sta facendo lavoro serio a proposito a proposito di Trump diciamo che gli ultimi 2-3 anni ma insomma forse anche andando più indietro pongono dei modelli che non sono più tanto destra o sinistra non le faccio la domanda esistono ancora destra e sinistra ma più che altro modelli aperti e modelli chiusi la Brexit Trump contro Clinton si sfidano molto su questi su questi temi qui anche ieri a Bratislava insomma il bisticcio possiamo definirlo così che c'è stato il mancato allineamento è anche su questi temi sul quanto siamo aperti nei confronti dei migranti o meno crede che questa sia ormai la dicotomia cioè più che destra e sinistra aperti chiusi cioè l'idea di essere aperti in un mondo che ovviamente almeno dal nostro punto di vista dal nostro punto di vista wired vuol dire connesso quindi siamo per definizione aperti una bella domanda non so se ho una risposta neanche io per me convincente nel senso che questo è un tema sul quale io sto riflettendo molto ne parlo con i miei amici con le persone con cui magari qualche sera facciamo qualche chiacchiera per cercare di capire leggo email commenti post valutazioni varie perché poi per me la rete è anche andare a scoprire qualche chicca certo trovi tante schifezze frasi false assurde io ho ricevuto una volta una telefonata di un mio familiare perché era preoccupato che io fossi recuperato e ricoverato al gemelli perché c'era una notizia di uno di quei siti finti a parte i commenti ed è sotto mori speriamo tu schianti questi simpatici momenti di augurio ma la cosa interessante è che trovi delle riflessioni intriganti su questi temi poi dico una cosa su ieri perché ieri è andata un po' diversa ma questo tema che tu dici direttore è vero esiste c'è l'economist ha fatto una copertina molto bella su questo una divisione in due il mondo della paura e il mondo della direi più che dell'accoglienza del coraggio del guardare il futuro come un luogo nel quale stiamo meglio io sono uno di quelli che pensa che letto il libro di Alec Ross è vero ci saranno un sacco di problemi un sacco di difficoltà ci saranno nuovi perdenti ma ci sarà anche un mondo che andrà sempre meglio io sono un progressista da questo punto di vista sono contento che ci sia un miliardo di persone in meno che soffre la fame negli ultimi 15 anni quindi credo che l'innovazione sia una straordinaria occasione di crescita di bellezza e di ricchezza il problema diventa come lo disciplini come lo declini e allora da questo punto di vista sicuramente le elezioni americane sono sono interessanti anche perché sono interessanti o le teme? tutte e due tutte e due perché da un lato sono molto interessanti dall'altro sono una grandissima preoccupazione a me preoccupa che il presidente degli Stati Uniti è il presidente degli Stati Uniti ha la valigetta con dentro cose significative però nucleare ma la cosa più interessante secondo me che vorrei che fosse chiara è che l'Italia può stare dalla parte di quelli che hanno un grande dividendo se scegli la strada del coraggio cioè se l'Italia smette di rappresentare se stessa come il luogo delle sfighe come il luogo delle occasioni perdute ci sono vent'anni di cultura dominante in questo paese in cui l'Italia è sempre il paese da cui i cervelli vanno via da cui in cui non c'è occasione di crescita non è così non è così l'Italia è fatta da tanti di voi che magari hanno amabilmente sulle scatole la classe politica o il presidente del consiglio o i singoli partiti o tutti i partiti ma è un paese che è pieno di risorse strepitose allora il rischio vero qual è? prendo un'altra copertina non Wired non Economist ma i vostri colleghi di Time 2006 o 2007 non mi ricordo quelli di Time fanno i fighi i fighi a Firenze si dice mettono in copertina sapete che tutti gli anni fanno l'uomo dell'anno no? ti ricordi? si si mettono in copertina una sorta di specchio si un computer con il monitor uno specchio con scritto you cioè se tu ti guardavi vedevi l'uomo dell'anno sei tu perché? perché puoi con le nuove tecnologie essere iperconnesso interconnesso fare giornalista raccontare benvenuti nell'era dell'interconnessione come era una cosa del genere benvenuti nell'era della nuova della nuova era dell'informazione o dieci anni dopo quelli di Time 15 due mesi fa hanno fatto una copertina sottolineando come questa grande stagione dell'era dell'interconnessione e l'iperconnessione rischia di essere soccombente rispetto alla cultura dell'odio perché talvolta questa stessa tecnologia così spinta ci porta a dare non il meglio di noi stessi ma il peggio di noi stessi pensa a alcune discussioni sui social che tirano fuori il peggio di noi allora e finisco una cosa su ieri io penso che l'Italia abbia tutte le condizioni per poter stare dalla parte del coraggio e non dalla parte della paura è un casino farlo non è semplice ci sono sfide da vincere io credo che sarà una partita che accoglierà Diego Piacentini e gli altri in modo molto forte dal punto di vista della costruzione dell'infrastruttura che sta alla base ma il punto su cui abbiamo discusso ieri non è che noi vogliamo accogliere gli altri no il punto su cui abbiamo discusso ieri è qual è l'ambizione dell'Europa in 40 secondi cosa è accaduto dopo la Brexit ci siamo fatti un sacco di discussioni tra di noi dopo la Brexit l'Europa deve ripartire io sono convinto di questo e invece che cosa è accaduto è accaduto che si è fatto un percorso per arrivare al vertice di Bratislava che a sua volta porterà un altro vertice quello di Roma dove noi avremo la responsabilità di guidare la discussione sul rilancio dell'Unione dove alla fine ci siano detti più o meno le stesse cose si è fatto un dibattito ma si è fatto un passo indietro rispetto a Ventodania diciamo che non si è fatto avanti allora io pongo due temi simbolici l'immigrazione e la crescita sull'immigrazione sono due potrei parlare di innovazione e banda larga in Germania con i soldi del surplus commerciale che facciano la fibra e che magari facciano lavorare quindi le varie aziende europee con investimenti veri no non entro su questi temi che pure sono interessanti due temi immigrazione e crescita l'immigrazione vogliamo capire che se è giusto salvare tutti in mare non è possibile accogliere tutti soltanto in Sicilia o in Puglia non è una cosa particolarmente intelligente è la banalità allora o si accetta la tesi italiana che si va in Africa si fanno gli accordi di cooperazione internazionale ci si porta lavoro e si bloccano le partenze costruendo occasioni di sviluppo oppure si dice stiamo perdendo tempo se non lo fa l'Europa lo facciamo da soli però l'Europa ha perso un'occasione ieri hanno portato un documento in cui dell'Africa neanche si parlava allora noi siamo italiani siamo generosi siamo pronti a dare una mano ma non è che lasciamo che un problema come quello dell'immigrazione esploda per le incapacità europee o per le timidezze europee e il secondo tema è quello dell'economia poi torniamo sull'innovazione scusami direttore in questi cinque anni l'Europa ha scelto l'austerity Obama ha scelto gli investimenti l'Europa ha perso posizioni e competitività gli Stati Uniti hanno recuperato posizioni manifattura e posti di lavoro la ricetta dell'Europa era sbagliata la ricetta di Obama era giusta non c'è discussione questo è un dato di fatto cioè non è che lo dice il direttore di guardia il presidente del consiglio il sindaco di Firenze lo dicono i numeri lo dice la realtà allora va bene avere come è giusto che sia l'attenzione alle regole noi rispettiamo le regole noi sì quindi lo dice uno che sta rispettando le regole europee però possiamo dire che queste regole non funzionano e quindi lavorare per cambiarlo oppure bisogna far finta di nulla e fare la foglia di fico agli altri io non sono fico e non sono una foglia e non credo che sia logico che l'Italia si presti a far finta di nulla quando le cose non migliorano quando le cose non vanno avanti l'Italia vuole più Europa ma vuole un'Europa diversa e su questo ci facciamo sentire senta abbiamo quasi finito ultime ultime due domande la prima che è un po' un proseguimento di questa risposta qui è tema della crescita non voglio entrare sullo 05 06 perché tanto stiamo parlando di appunto 0 punto lei ha più volte detto che anche fosse lo 07 la crescita comunque non sarebbe soddisfatto è possibile che questa crescita passi molto per innovazione perché poi se vediamo i paesi che sono cresciuti di più ecco per dire qualcosa di concreto che non è una cosa solamente per nerd sono quelli che hanno investito di più sulle nuove tecnologie che sono d'accordo noi la crescita non è granché punto il fatto che stiamo andando meglio di prima non è consolante prima si andava malissimo ora si va benino prima 2012 crescita meno 2,3% governo Monti 2013 meno 1,9% governo Letta che si faccia più 1 quest'anno o più 0,8 0,7 0,9 1,2 è meglio di prima ma è meno di quello che io vorrei che secondo me è la crescita alla quale noi dobbiamo tendere il 2% come riferimento e ancora si allontani può aiutare l'economia digitale sì ma permettetemi di dire che tutte queste discussioni hanno un senso se siamo molto seri tra noi stessi cosa serve 1 concretezza la banda larga noi andiamo verso una società che si misura in giga se bastano però intanto mi accontenterei tanto io tutto sommato questa società ha bisogno di investimenti in banda larga noi li abbiamo sbloccati ma ci abbiamo messo un anno soltanto a fare i bandi per come funziona la burocrazia che nel frattempo stiamo cercando di semplificare questo tipo di investimento 2 miliardi di euro avrà una ricaduta banalissima all'inizio nell'economia lavoreranno gli elettricisti voi ridete ma lavorano gli elettricisti ed è fondamentale che lavorino le piccole medie imprese degli elettricisti gli artigiani per i quali stiamo cercando di abbassare le tasse perché sono strozzati l'inizio è quello ma la vera novità è che poi con la banda larga vera tu hai un sistema totalmente diverso verso l'industria 4.0 e l'industria 4.0 porta ad investire da un lato sulla robotica sull'intelligenza artificiale ma dall'altro ha bisogno che ci siano investimenti su che cosa le università e i centri di ricerca noi abbiamo fatto alcuni accordi a me quelli che dicono abbiamo fatto il piano fanno morire dal ridere io dico abbiamo preso Amazon abbiamo fatto centinaia anzi migliaia di posti di lavoro in alcuni luoghi ma l'investimento più importante è a Torino parte con 25 persone 20 mi pare sono 20 ingegneri e è il centro sull'intelligenza artificiale che fa Amazon Apple tutti a dire ah ma sono i corsi e non sono i posti di lavoro è fondamentale che come Jeff Bezos abbia scelto Torino Tim Cook abbia scelto Napoli io per essere chiari quando gli ho portato le città non gli ho portato quelle governate dal PD o a mangiare l'ho portato a Firenze mi perdonerete per diciamo l'evidente conflitto di interessi e Nardella gli avrà chiesto immagino di tutto perché poi l'ho lasciato con Nardella Bezos non so cosa gli avrà chiesto Nardella poi passa dopo a chiedere il conto e l'ha fatto giustamente facendo il sindaco e facendolo bene però il problema vero che c'è è che noi abbiamo dato delle città che avessero una storia Torino ha sull'università il Politecnico e non solo il Politecnico un'eccellenza straordinaria Napoli deve essere accompagnata grazie all'università la Federico II non me ne frega niente se ci sono sindaci di colori diversi l'importante è che queste città ci facciano fare bella figura perché 60 600 saranno 6.000 saranno realtà dell'indotto posti di lavoro l'expo nell'area post-expo ci facciamo un grandissimo centro a livello internazionale con Cingolani e con gli altri che tenga insieme Big Data e Scienze della Vita guardate che questa è una frontiera enorme scusami direttore se mi accaloro ma questo è il futuro il collegamento tra qualità della vita longevità si vive in Italia più che dalle altre parti del mondo solo in Giappone vivono un po' di più ma ora si ripigliano anche loro cioè non voglio augurare la morte ai giapponesi però allunghiamo noi siamo competitivi quindi no diciamo gli giapponesi sono amici poi vengono tutti a Firenze allora qualità della vita scienze della vita Big Data medicina investimenti in innovazione farmaceutica ma qualità dell'invecchiamento su queste cose noi abbiamo una leadership mondiale allora traiamo le grandi università internazionali ma portiamo anche le nostre università su tutti questi lavori che stiamo cercando di fare io credo che ci debba essere la consapevolezza che tra dieci anni questi faranno fare la crescita del PIL ma oggi sono solo soldi che vengono spesi non sono non fanno PIL per il momento ultima domanda la politica ha sempre avuto un rapporto abbastanza insomma diverso a seconda poi dei diciamo delle aree di appartenenza con il futuro pensiamo per esempio ai due grandi modelli del secolo scorso il capitalismo e il socialismo da una parte c'era il capitalismo che aveva un rapporto col futuro molto più immediato cioè sfruttava le innovazioni le tecnologie per creare produttività benessere il socialismo aveva un rapporto con il futuro talmente buono tanto da dimenticarsi spesso il presente in un'epoca in cui si chiede tutto e subito cioè le tecnologie digitali fanno questo perché i cittadini vogliono tutto e subito se adesso se il sindaco di Roma non mette in piedi tutto e subito è un disastro se il presidente del consiglio fa altrettanto è tutto un disastro senza conoscere che poi appunto ci servono dei tempi qual è il giusto rapporto il giusto equilibrio che la politica deve trovare con il futuro cioè dare una parte appunto assicurare il benessere delle prossime generazioni pensando anche già a quelle che ci sono oggi è una domanda bellissima e difficilissima lo snapchat è fantastico perché dopo quanto 24 ore via non c'è traccia è una cosa che non rimane poi tu hai una ragazza 31 anni che si ammazza perché non riesce a cancellare un video che ha fatto il tema del rapporto tra velocità e se vuoi anche liquidità come possiamo definirla certo e eternità delle tracce che noi lasciamo grazie alla innovazione alla rete è un tema fantastico è un tema che mette insieme filosofia del diritto sociologia antropologia cioè io non so qual è la vostra impressione ma è un problema vero non entro sulle vicende locali io spero che il sindaco di Roma governi bene e noi ho detto tutti i miei secondo me noi non dobbiamo attaccare il sindaco di Roma se ha dei problemi dobbiamo dirle noi siamo qui pronti a dare una mano poi naturalmente speriamo che tutti abbiano lo stesso atteggiamento nei confronti degli altri senza avere due pesi e due misure ma noi non attacchiamo il sindaco di Roma quindi non mi interessa buttarla in politica ragioniamo nella sostanza io oggi ho un mondo in cui posso essere snapchat e posso essere condannato all'eternità digitale con tutto ciò che ne consegue perché magari è memoria positiva e magari è un errore fatto a 15 anni 16 anni 20 anni quanto è importante educare alla responsabilità questo sempre tanto da rete ti tira fuori la parte peggiore talvolta ma anche la parte migliore che è quella della responsabilità personale allora siccome non voglio farla lunga direttore nella risposta ma è difficile capire qual è il confine giusto io penso al mio governo e dico cos'è che resta di quello che noi abbiamo fatto cioè domani mattina me ne vado c'è qualcosa che resta e qual è qualcosa che non resta sicuramente modello snapchat se ne vanno tutte le polemiche quotidiane le discussioni di quelli che prima la pensano in un modo poi siccome tu la pensi così la pensano in un altro questo svanisce tutto come lacrime nella pioggia avrebbero detto i futurologi di un tempo che guardavano il film più bello del mondo che è Blade Runner siamo vecchi dall'altro però c'è un tema che resta il fatto che in Italia ci sia una legge sui diritti civili è un qualcosa che nessun snapchat mi cancella il fatto che ci sia oggi era la conferenza nazionale sulla disabilità una legge sul dopo di noi cioè se io ho un figlio disabile questo figlio se io muoio se io e mia moglie moriamo ha un futuro guardate che a chi non ha un parente disabile può sembrare una banalità ma è una delle cose più grandi che noi abbiamo fatto cioè modello snapchat questa non è snapchat questa resta poi ci sono tutte le discussioni le varie riforme che sono più d'attualità di cui non parliamo io credo che sia fondamentale avere consapevolezza che la politica è il più alto servizio che tu puoi fare alla tua comunità e quindi che devi prenderti se decidi di farla del tempo che vuol dire non essere snapchat e non fare la comunicazione volante che poi svanisce ma non essere nemmeno eterno quando io dico rottamazione dico che tu puoi fare due mandati non come direttore se vuoi fare il presidente del consiglio al massimo due mandati e poi a casa questo meccanismo è un meccanismo che ti costringe a usare un determinato periodo di tempo per gestire la cosa pubblica per fare politica con la prima iuscola in modo bello autentico io ve lo auguro nel senso io vi auguro di avere un periodo di tempo in cui voi possiate servire nelle forme che riterrete la vostra comunità territoriale con tutti i partiti che volete destra, sinistra sopra, sotto movimenti tutto quello che vi pare ma con questa consapevolezza e può sembriarti strano direttore che lo dica chi in questo momento è impegnato in una battaglia per ridurre il numero dei politici io sono per ridurre il numero dei politici ma questo non significa essere antipolitici significa restituire la politica il gusto di fare cose che non siano fugaci e che si perdano nel tempo ma che abbiano una loro solidità e consistenza la rete da questo punto di vista è uno straordinario è una straordinaria potenzialità è una straordinaria opportunità ok Presidente prima di salutarla a proposito di quello che ognuno fa per la propria comunità Wired nell'ultimo anno e mezzo ha condotto una battaglia la battaglia è quella di chiedere con una petizione che abbiamo lanciato su change.org al governo di porre la giusta attenzione nei confronti del tema dell'amianto noi abbiamo fatto una mappa più completa possibile di tutti i siti che oggi contengono ancora amianto che ancora oggi produce circa migliaia di vittime ogni anno ed è un costo sociale di circa mezzo miliardo l'anno per il paese io se me lo permette allora aspetta un secondo solamente questo aiuto scusate e questo allora questa è la petizione che noi abbiamo fatto la consegno rivolta a lei e al ministro Galletti le firme sono 70.000 erano 2.000 pagine stampate siccome siamo wired io gli ho fatto la chiavetta e quindi la mettiamo le trovo tutte dentro le chiedo la cortesia di porre un'attenzione particolare quando ho incontrato il sindaco di Casale Monferrato e i lavoratori del Irpini di una zona in me particolarmente colpita ci siamo presi dei primi piccoli impegni sia per restituire dei denari a quella collettività sia per augurare a quella comunità un buon lavoro sai che sabato scorso hanno inaugurato un parco straordinario dedicato alle vittime dell'amianto e comunque impegnandosi a che questa battaglia continui quindi volentieri vi ringrazio della petizione e cercheremo le 70.000 firme e cercheremo soprattutto di lavorare perché ci sia il finanziamento nazionale al piano nazionale contro l'amianto che se non sbaglio fu lanciato proprio a Casale per ovvi motivi per motivi legati a Casale Monferrato quindi vi ringrazio anche per questa battaglia sociale che state facendo e che ci vedete d'accordo grazie a lei ringrazio il presidente del consiglio buon lavoro ne ha bisogno lei ne abbiamo bisogno noi grazie Matteo Renzi presidente del consiglio proseguiamo grazie 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 a tutti.